ciao a tutti e benvenuti di nuovo qui a un'altra puntata sulla north frisish marsh perché ha visto la puntata di ieri abbiamo fatto una puntata in notturna dove abbiamo finito di raccogliere tutte le balle che avevamo qui sul campo 48 e li abbiamo portati qui al biogas cioè li abbiamo venduti e quelli che sono rimasti li abbiamo portati qui al biogas diciamo che alla fine ci sono rimaste quante fa vedere allora sono 28 38 41 sì dai una cinquantina di balle che andremo a vendere in inverno oltre a queste abbiamo anche queste qui guardate un po' quante ne abbiamo qua che anche questi a proposito visto che ci siamo controlliamo se sono tutte fermentate tutte ecco adesso mi è venuto perché allora queste erano quelle che abbiamo fatto noi queste invece siamo sempre le ultime che abbiamo fatto un paio di puntate fa anche queste sono intorno al 40% in fermentazione ok allora abbiamo tutte queste balle qua che non so quante sono ma le andremo a vendere in inverno cioè tra dicembre e gennaio più quelle che abbiamo là sopra più qualcuna che faremo adesso perché ho deciso e probabilmente lo farò di comprare un biogas sono però ancora indeciso fra questo attimo che andiamo a togliere meglio fra quello a nord o quello a sud che è qui adesso devo vedere di preciso e poi vediamo uno dei due ma tanto per adesso i soldi non ce li abbiamo e lasciamo così quello che andremo a fare invece in questa puntata è compriamo questi due campi qua perché mi sono accorto di una cosa io non ci avevo mai fatto caso però probabilmente è la precision farming che ci dà sta cosa qua perché non ho installato altre mod che probabilmente mi diano questa informazione qui ma se io clicco sopra sicuramente qualcuno mi dirà dice ma te ne sei accorto solo adesso ecco qua se io ci clicco sopra adesso abbiamo un prezzo come posso farvelo vedere meglio così di 49 mila euro l'ettaro se io vado su questo siamo a 70 mila addirittura se vado ancora su questo siamo intorno ai 60 mila vedete come cambiano i prezzi in base al campo allora visto che noi dobbiamo comprare questo tanto non ce la faremo mai cioè ce la faremo ma più avanti e ripeto non compro un campo di questi che ci sono qua nel senso che non compro un campo di orzo o frumento qualcosa del genere perché sicuramente nella prossima versione bisogna traslocare su un altro safe game allora preferisco comprare i campi d'erba che quelli non cambiano scusate allora allora dando un'occhiata ai campi d'erba che abbiamo in giro qui quelli che in questo periodo qua costano meno sono uno e due perché questo lo compreremo molto ma molto più avanti perché qui ci andremo a mettere poi quando sarà il magazzino se lui lo farà penso di sì perché l'ho fatto ogni volta e costa guardate un po' costa 30 mila lettero che come prezzo non sarebbe male solo che costa 110 mila quasi quasi comprarlo adesso che il prezzo è basso poi ce lo troviamo questo invece siamo a 61 qua 62 69 58 e qualcuno ha anche un pelo più alto adesso vediamo di preciso cosa cosa possiamo fare e quale comprare per il semplice fatto che perché avevo visto anche questo ma questo costa un po' troppo direi 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 che andiamo a comprare questi qua allora facciamoci dare di nuovi soldi perché gli avevo ne avevo restituito una bella cifra prima di prima del prima della notte così andiamo a pagare meno interessi perché altrimenti le interessi gli interessi ci ammazzano infatti abbiamo pagato 700 euro ok allora vediamo mi sono dimenticato di installare di nuovo quella mod che ci fa velocemente i prestiti ma adesso andiamo con questo dovremmo arrivare a quando abbiamo detto che ci serve allora 100 mila in più li prendiamo sempre 376 allora 380 e 150 sono 380 sì 380 sono quasi 600 perché quello fa 480 sì 530 allora prendiamo 600 tanto ce li da perché le avevamo anche prima penso che i 600 e andremo di nuovo a circa il milioncino come debiti ma ho visto anche che abbiamo tante belle missioni da fare tra cui una bella missione di fertilizzazione su facciamo 700 tonti dai 700 van bene c'è una bella missione qua di fertilizzazione e questo campo d'erba qua da raccogliere allora faremo i nostri faremo questo una bella missione qua sopra e e poi se ci rimane del tempo non in questa puntata qua ma nella prossima facciamo anche qualcos'altro però questo allora terre compriamo compra ok poi compra anche questo ok beh ragazzi un po' di campi l'abbiamo comprato vedete un po' per fortuna che qui non ci avevo piazzato il la segheria perché non vorrei che qua abbia nel momento in cui andiamo a cambiare il safe game abbiamo di nuovo gli alberi da tagliare speriamo di no vediamo se riusciamo a non farlo ma non penso non penso proprio e inizialmente lui un paio di volte un paio di safe game nuovi ce li fa ce li fa fare dopo dopo piano piano migliora ok è un'altra cosa ancora che qui vediamo quanto ci costa così andiamo subito a quanto mi costa se lo voglio fare acquisto informazione 14.000 no ma allora facciamo una cosa che mentre qui vanno avanti le mie missioni io questo me lo scannerizzo a mano perché 14 qui e altri dov'è via altri 8 9 qui sono 20.000 che io mi riposto risparmiare le facciamo vedere eh no 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 12.000 13.000 ce li risparmiamo tanto il bagaglino ce l'abbiamo non è un problema questo ci dovevamo pensare prima di comprare il coso almeno risparmiavamo quei soldi lì allora da qui andiamo via e andiamo a prendere la nostra attrezzatura no prima dobbiamo accettare l'emissione vediamo se c'è qualcosa in offerta oh guardate un po' qua questo si che è una bella cosa oh anche questa 80.000 costa una barca di soldi allora questa qua Zitan Multifruit Roller ah questa addirittura quella ah questa questa va comprata qui sono due cose che allora questa qua che capacità ha? fammi vedere no questa è quella piccola no questa no questa non la compreremo no ma questa si però questa costa 200.000 l'abbiamo trovata 80.000 quante ore di lavoro ha? 30 ore di lavoro no va bene questa questa la compriamo anche perché questa è quella che ci fa tutti i tipi di semi fammi vedere guardate un po' ok si 300 cavalli non abbiamo proprio e ce la troveremo dopo con logo no senza logo non mi piace con logo ehm capacità si può modificare 5.000 e 15.000 20.000 10.000 no tanto adesso non ci serve ci servirà più avanti io direi che adesso la compriamo così molto base 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 e poi equipment che cos'è? ah i roller così non c'è bisogno di passare il rullo dopo e quello lo prendiamo vabbè ma anche questo potrei farlo anche dopo no dobbiamo metterci il meno possibile il colore vediamo se non ci costa niente eh se la facciamo grigia eh un colore strano proprio che non c'entra niente beh direi così va bene allora i cerchi ma c'è io così si va bene così beh adesso la prendo così poi magari più avanti ci ripenzo e gli do una verniciata tanto per un euro non ci possiamo rovinare ok allora la compriamo con quali soldi? ci abbiamo? si ce l'abbiamo perfetto ok adesso la prendiamo così poi da qui non serve più niente ok mandiamo mettiamo in moto da qui non ci serve niente da qui neanche ah l'emissione dobbiamo accettare l'emissione ok allora abbiamo detto il 45 avvolgi balle cosa vuole? insilato perfetto ok allora accetta poi c'era quella no è andata via due secondi fa c'era vediamo fertilizzare vediamo se c'è qualcosa di più nuovo oh non c'è abbiamo perso quella bella missione ma probabilmente anche se l'accettavamo andava via comunque è andata via niente beh adesso facciamo una cosa intanto abbiamo questa qua e andiamo sulla 45 con i nostri mezzi nel frattempo io devo anche dare una pulita a proposito vedete qui ho registrato un po' di parcheggi sull'isola sud adesso ne ho registrati due più avanti magari qualcuno in più lo registrerò per il semplice fatto che invece di mandarli direttamente sul campo a volte magari li possiamo mandare anche qui e allora tu vai ora sul 45 e allora forti fa 45 va bene lui inizia a fare i suoi giri vedete qui bisogna che dobbiamo cambiare perché qua non voglio che vabbè intanto cambieremo facciamo lo farò beige anche qui si anche qui come potete vedere è predisposto per montare tutto il resto una cosa che volevo vedere che cacchio ho fatto vabbè lasciamo perdere volevo spingere questo invece ho premuto su un altro possano e allora abbiamo volevo andare a vedere le nostre perché questi producono della corrente ok questa la vende e questa invece la distribuisce dobbiamo allora questo ha bisogno di corrente fammi vedere quanta ne ha carica elettrica 10 questa ha bisogno di corrente anche queste va bene questa idem carica elettrica va bene no va bene una vende e l'altra così almeno qualcosa la guadagniamo allora questo abbiamo detto che vende perfetto ma intanto io questi soldi qua dove lo vedo? vedo da qui prodotti venduti dove sei? no probabilmente mi va in prodotti venduti come anche la roba che vendo sì o è altro beh manderò un messaggio al tipo che ha fatto la mod cioè la mappa così vediamo dove trovo gli incassi di questa cosa qua perché se posizioniamo vediamo quanto ci costa perché secondo me ci costa parecchio perché potremmo no che guarda roba vabbè posto sbaglio pure io via fuori 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 da qui non fuori da qui un'altra volta costruzione ok production no production no capannoni e qui capannoni no allora sono produzione avevo ci avevo preso 150.000 ci costa è quella grande sì 150.000 però produce anche corrente elettrica che potremmo vendere beh quasi quasi con quello che becchiamo dalla missione potremmo andare a installare già queste due qua e dopo vediamo un po' di corrente quanta ne produce e così almeno facciamo un po' abbiamo un investimento a impatto ecologico zero ehm dove sei dove sei dove sei dove sei qui allora missione dove li vuole lui eh ottenere biogas allora è quello sud ok aspetta per l'attore insilato ok va bene allora siamo sul 40 ma l'avevo accettato sì aspetta no voglio sono sicuro di qui dov'è 45 sì ok no perché mi era venuto il dubbio se fosse cioè se era 45 o 46 allora qui siamo sul 45 oddio dio bono questa cosa qua va in tilt non ho capito perché per come allora andiamoci da qui ogni volta che ci vado da qua succede il suo casino se invece ci vado da qui no probabilmente con l'ultimo aggiornamento perché ho aggiornato il gioco con l'ultimo aggiornamento è andato in tilt qualcosa con course play adesso vediamo se i ragazzi di course play si inventano qualcosa in merito allora dov'è l'inizio qua non ho capito perché l'inizio è tutta un'altra parte invece che dove sono io non vuoi vedere ma l'inizio è qui ma adesso sono curioso di una cosa secondo me inizia ah inizia il centro campo ma era qua si è qua no lo facciamo cominciare da fuori così che almeno mettiamo subito al lavoro anche la pressa l'imballatrice l'imballatrice via questo è un nuovo percorso e io dove sei qua eh? qua eee io direi che lo facciamo cominciare qui si direttamente 10 metri va bene non però siamo un po' più stretti perché eh ho paura che vada lì contro gli alberi e non mi piace va bene 3 va bene si va bene ok morbidi inizio campo perfetto vai ok ok a vedere si va bene allora questo lo andiamo subito a ah guardate un po' questa non so se è nuovo o meno però normalmente se io vado qui mi doveva comparire il menu adesso è successo questo casino qua che non si capisce più di preciso cosa succede o cosa non succede però va bene comunque va bene comunque ehm menu menu dove sei qui vediamo se adesso si allora 45 questo andiamo cancella voce questo via via e cambia qua salva qui e facciamo big emma allora big emma sis ok allora tu inizi dal primo point dove vai dove vai direi meglio di così dove vuoi che te lo metta qui inizio dai si dai inizio beh ragazzi allora abbiamo fatto un passettino in avanti sì abbiamo qualche debituccio da pagare però abbiamo due nuovi campi che abbiamo che è già pronto per l'erba è già pronta per essere tagliata nel momento in cui la tagliamo facciamo subito le balle così che entro novembre dovremmo essere lì come fermentazione almeno così anche queste li andiamo a vendere perché con quello che andiamo a vendere dovremmo riuscire a comprarci il nostro impianto di biogas devo ancora decidere quale dei due ma questo più avanti lo vediamo bene ragazzi ci vediamo al prossimo video domani sempre qui sulla notte di Gmars sempre allo stesso orario ciao 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 ciao